Amici, oggi piove, c'è brutto tempo, ho deciso di rifare i legni alla mia doppietta peretta e incomincieremo ad usare un sverniciatore per rimuovere tutta la vecchia pittura. Oggi a passare allo sverniciatore. Ok amici, dopo aver aspettato un'ora, incominciamo a fare la raschiatura per togliere tutta la vernice. Ok amici, dopo aver raschiato tutto, incominciamo a pulire il ripulito. Si incomincia a cartavetrare con una grana 600 fino ad arrivare a una 1500. Ci ho lasciato il calciolo e la bascula per ritenere una linea guida. Ok amici, il calcio è stato ripulito, non voglio pitturarlo con il solito colore noce, ma ci voglio passare un red oil, un olio rosso di radice, che conferisce colore e risalta le venature. Allora, incomincio a passare l'olio. La prima mano di olio rosso è stata passata, asciugata. Adesso facciamo l'ultima mano di questo olio. Una mano bello sottile, solo per conferire un po' di colore in più. Come ultimo step rifinisco il calcio elastina con un true oil. Passeremo circa 20-30 mani due volte giorno. Dopo aver steso 10 mani di true oil, incomincieremo a fare la prima mano. prima carteggiatura, con una grana 1500. Dopo aver carteggiato, incomincio di nuovo a farci 10 mani di true oil. No. Dopo aver guardato non so. Grazie per la visione!